Chi si presenta a voi? Gerchio Ifior, attraverso Tullia e Gian, Moti. E ancora un saluto da parte mia figli. Colgo l'occasione per ricordarvi ancora una volta, se davvero ce n'è bisogno, che chiunque possa essere chi si presenta a voi come Moti, o come Scifo, o come Michel, o come Fabius e via dicendo, non fa altro che manifestare un atto d'amore nei vostri confronti. E che se davvero credete che la realtà è un tutt'unico, che tutto ciò che accade, accade sempre e comunque veramente per il vostro bene, allora sentite accanto a voi la nostra presenza, come se fossimo dei talismani preziosi, donati da chissà quale mago fantastico, affinché li conserviate con voi e, toccandoli nei momenti di tristezza, di dolore o di travaglio, possiate riuscire a ritrovare quell'equilibrio che così facilmente nella vita di tutti i giorni viene perso. Possiate risentire quell'attimo di affetto che per un momento vi ha fatto scordare le vostre lacrime. Possiate in quel momento ritrovare quel sorriso che a volte sembra nascondersi dietro alla piega amara delle vostre labbra. Se tutto ciò che esiste è e se tutto ciò che è alla fine si può descrivere in una sola parola e questa parola è amore, io e tutti gli altri fratelli non possiamo fare altro che ripetervi ancora una volta che noi vi amiamo figli.